è nessimo raffreddore qui avete chiesto altro? si stiamo aspettando la sua fattura ok è un raffreddore d'estate e mi sto scusando è giusto? che bello di là di là perché prendi il mare se lo vado con solo lo vado con solo allora Apollo dai rilascia un'intervista come hai mangiato? com'era la pasta cazzo